buongiorno e buon natale a tutti quanti passate buone feste e insieme ai vostri parenti insieme alle vostre famiglie per chi può insieme a vostri amici insieme a tutte le persone che amate cercate di passare delle belle feste sono un'ottima occasione per poter restare insieme per poter parlare di gesù per poter dare comunicare l'amore di dio a quante più persone possibile anche le persone che magari sono ateo dicono di non credere che magari non stanno seguendo molto il signore a natale si aprono in maniera straordinaria il messaggio del vangelo e queste feste sono un'ottima occasione per poter parlare di chi gesù è e del motivo per il quale lui è venuto per il quale lui è nato e è vissuto e morto per noi è risorto per noi ed è asceso in gloria ed è seduto alla destra del padre per ognuno di noi molto brevemente volevo leggere con voi da matteo al capitolo 1 dove è scritto che dice la nascita di gesù cristo avvenne in questo modo maria sua madre era stata promessa in matrimonio a giuseppe ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta però proprio lo spirito santo allora giuseppe suo sposo che era uomo giusto non voleva esporla a infamia deliberò di lasciarla segretamente ma mentre rifletteva su queste cose ecco che un angelo del signore gli apparve in sogno dicendo giuseppe figlio di davide non temere di prendere con te maria come tua moglie perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello spirito santo ed ella partorirà un figlio gli porrà in nome gesù perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal signore per mezzo del profeta che dice ecco la vergine sarà incinta appartorerà un figlio il quale sarà chiamato emmanuele che interpretato vuol dire dio con noi ed è bello poter comprendere il vero significato di questo nome pensate un attimo gesù durante tutta la sua vita terrena non è in realtà mai stato chiamato emmanuele dalle persone neanche da sua madre o da suo padre ma questo nome rappresentava una un decreto di dio per l'umanità emmanuele che significa dio con noi giovanni 11 dice la parola nel principio era la parola la parola era presso dio la parola era dio e la parola si è fatta carne è venuta ad abitare per un tempo tra di noi noi abbiamo contemplato la sua gloria ed è straordinario come il vangelo di matteo inizia proprio con questa con questa dichiarazione la l'adempimento della profe della profezia di seia la la vergine sarà incinta partorerà un figlio il quale sarà chiamato emmanuele che interpretato vuol dire dio con noi ed è straordinario poter vedere anche come si conclude il vangelo di matteo quando gesù risuscitato dice ai suoi discepoli io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente l'inizio e la fine del vangelo di matteo si aprono e si chiudono non con una promessa perché la cosa bella di questo passo è che questa non è una promessa questo è uno stato di fatto dio è con noi gesù ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine e che tu lo creda o no lui è con te che tu lo voglia o no lui è con te che tu lo realizzi o no è lui è con te perché questa non è una promessa che si realizza per fede questo è uno stato di fatto e anche quando non credi anche quando non vuoi anche quando non senti anche quando non lo percepisci lui è sempre accanto a te ti ama ti parla ti protegge ti guida ti ispira ti guarisce ti libera ti dà vittoria ti dà prosperità ti dà pace ti dà gioia lui è accanto a te l'emmanuele dio dio che non si è fatto i fatti suoi rimanendo lì in un angolo del cielo dio è venuto qui sulla terra per dimostrare che lui ci ama che noi siamo importanti per lui siamo preziosi per lui e lui non ci lascerà e questo natale usalo non per discutere dottrinalmente cose stupide che non stanno né in cielo né in terra e che non servono a nessuno se non a creare problematiche non usare il natale per creare separazione non usare il natale per dividerti non usare il natale per separarti non usare il natale per fare discussioni teologiche usa il natale per parlare dell'amore di dio per dichiarare che dio ha tanto amato il mondo che ha dato il sogno il genito figlio finché chiunque crede lui non muoia non perisca ma abbia la vita eterna perché la volontà di dio è che nessuno perisca ma che tutti possano essere salvati che tutti possono entrare nella casa del padre dio con noi sta a significare che dio si è preoccupato di ognuno di noi lui non ti lascia e non ti abbandonerà mai è inutile lui ha la testa dura non lo puoi convincere al contrario lui non ti molla neanche per un istante buona giornata passate buone feste e buon natale a tutti quanti